Loro hanno una buona squadra, ma anche io, anche noi. Dopo la partita contro l'Argentina, la mia preoccupazione è non il risultato. Ho pensato che abbiamo una grande opportunità perché la nostra prestazione è a un livello diverso. Voglio che i giocatori fanno lo stesso per questa settimana. Spero che i piccoli momenti durante la partita vanno al nostro modo e vedremo il risultato alla fine. Parole sagge, verrebbe da dire quelle di Conor Oshii, commissario tecnico della Nazionale Italiana di Rugby, che sabato, fisco d'inizio alle 15, affronta nel terzo e ultimo Credit Agricole Cariparma Test Match dell'autunno 2017 il Sudafrica. Ci si aspetta uno stadio, l'Euganeo, praticamente esaurito, Padova. È pronta dunque a far sentire alla Nazionale tutto il proprio sostegno, quel che è certo è che sarà una partita molto, molto dura. Tra gli azzurri c'è chi i giganti sudafricani li conosce bene. È Abram Steyn, classe 1992, sudafricano, terza linea centro nel Benetton Treviso. Ora, tra le file azzurri, in quanto, elegibile per residenza in occasione delle 6 Nazioni del 2016, ha fatto il suo debutto internazionale con l'Italia. La maggior parte dei giocatori ha giocato assieme con me a scuola a diversi livelli di rugby di giovanile a Sudafrica, quindi siamo abbastanza amici tra di noi. Che effetto fa prima indossare la casacca di Spring Box, poi quella dell'Italia? Non andrei un po' in confusione? No, ormai mi sento più italiano che sudafricano, quindi sono molto orgoglioso di essere nella maglia azzurra e di fare parte di questa squadra, invece, quella di Sudafrica. C'è da dire che la partita è anche la rivincita per gli Spring Box della sfida in cui l'anno scorso a Firenze gli azzurri si imposero a sorpresa. Loro sono in netta ripresa, la settimana scorsa hanno battuto la Francia in Francia, quindi sicuramente vorranno riscattare la sconfitta dello scorso anno a Firenze. Noi cercheremo di limitare il loro attacco con il nostro piano di gioco e cercheremo sicuramente di fare mete, che è quello che forse ci è mancato un po' in queste due partite scorse.